Ripristinare parcheggio riservato ai disabili nello spazio antistante la rinnovata stazione ferroviaria di Sulmona, a chiederlo il presidente dell'associazione Aias, Sante Ventresca, nell'imminenza della ripartenza del treno storico della Ferrovia dei Parchi. Uno sforzo in più, quello che chiede Ventresca a tutte le istituzioni coinvolte, per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sono state in gran parte eliminate nell'area della stazione attraverso gli ascensori e rialzo dei marciapiedi e due percorsi riservati e non vedenti con ingressi separati che tuttavia mancano del parcheggio riservato, rileva il presidente dell'Aias, per cui si fa appello alle istituzioni preposte di intervenire e non aspettare ancora oltre. Basterebbe vedere la sensibilità e la delicatezza di alcuni esercizi commerciali di recente apertura ai quali abbiamo già rivolto il nostro apprezzamento per l'attenzione avuta nei confronti dei disabili, conclude Ventresca.